bene mulioni oggi secondo round con sti cavolo di toti speriamo di trovare qualcuno almeno volevo ringraziare il mio cugino per questo fantastico joystick a me piace tantissimo incominciamo con questi 20 quellosissimi pacchettini un curazzo secondo pacco bandierozza brasil felipe william freezer mi sento carico dai che oggi scappa il toti eccolo infatti walk out if no medison pacchetto giocatori oro prime prime come l'ho detto che merda camadoschia attenzione oh bandierozzo bandierozzo uh mares ci può stare dai ci può stare bandiere bandiera non è walk out mannaggia perfetto bandiera cazzo solo bandiera francia att bandiere che do balle Zio Billy Che scandali Uuuuh Sono le bandiera però Argentina DC Ottamendi Bon prima di spacchettare faccio Altri pacchettini non scambiabili E dopo li apriamo Dai cazzo dai cazzo si riparte Uuuuh L'andiera Francia ATT Quel de prima Che pacchetti di merda Oh no If walk out Dai Non ci credo Ma va in figa Dai De cattiveria Ma va a fanculo Da che Wijnaldum Non ci sarà un cazzo Anzi boh vediamo Uh Walk out Obamayang Attenzione Ci sta Ci sta Non ci sarà un cazzo Vai nel club Che coglioni Schipiamo Schipiamo Bom Apriamo Sei pacchetti da mille Dai If walk out Dai ma che balle Ah Un cazzo Ok Che vediamo Bandiera C'è Devrai Dai Dai If walk out Ma che merda Corona Uh Bandiera Che strano Marcus Scandale Bandiera Bandiera Walk out Francia Portiere Lloris Dio santo Boh Non mi arrendo Facciamo un paio di sbc Per pacchetti non scambiabili Fanculo Devo trovare qualcosa Boh Dopo questi pacchetti promo di merda Ho fatto altre sbc Quindi andiamo ad aprirci questi pacchetti Dai 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 Cazzo Schipiamo Dai If walk out Brasile ATT Gabriel Jesus Buono buono Lui ci sta Un cazzo Zio Billy Poca mare Qua mi sa che abbiamo Il Toti Oh Oh Poi da pacchi di merda Bandiera e bandiera Che vediamo Solo bandiera Italia CC Mamma mia Che c'è Kundo Ultimo pacchetto Di merda If walk out Ma essa Ma porca puttana Buon perfetto Sti Toti di merda Non si sono fatti vedere Quindi Non so che dire Lasciate un like al video Iscrivetevi al canale Ci rivediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao